Hanno tra i 13 e i 17 anni, sono 5 italiani incensurati della zona del Tienese. Sarebbero gli autori di due gravi episodi di lanci di sassi contro le auto avvenuti martedì scorso nel pomeriggio tra Dueville e Montecchio Precalcino. In entrambi i casi le pietre hanno colpito auto con a bordo delle famiglie con bambini, anche molto piccoli. Per fortuna non si è fatto male nessuno, solo danni alle vetture. I 5 ragazzini sono stati individuati dai carabinieri della tenenza di Dueville e 4 di loro, il 13enne non è infatti imputabile, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica dei Minorenni di Venezia per attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamenti in corso. Il codice prevede pene che vanno dai 3 ai 5 anni di carcere e i loro genitori dovranno rispondere civilmente per i danni materiali. Il fatto più grave è avvenuto verso le 18.30 di martedì lungo l'autostrada Valdastico tra i caselli di Dueville e Tiene. Un sasso di medie dimensioni ha colpito il parabrezza di un monovolume in cui a bordo c'era una famiglia del Tienese con il papà, la mamma, la guida e tre bambini tra 1 e 3 anni di età. La pietra è stata lanciata da uno dei 5 ragazzini che giravano tutti in bicicletta dal cavalcavia della provinciale per Montecchio Precalcino che passa sopra la 31. La donna è riuscita a fermare l'auto rilevando una profonda spaccatura e una lunga crepa nel parabrezza e a recarsi dai carabinieri. Ai 5 minorenni i carabinieri stessi contestano un altro lancio di sasso contro un'auto avvenuto 20 minuti prima in via Roma a Montecchio Precalcino contro un appunto con a bordo una donna di Dueville e i suoi due figli di 6 e 8 anni. Stavolta il lancio è avvenuto in corsa sempre da questo gruppo di giovanissimi in bicicletta e anche stavolta solo graffi alla macchina. Siamo riusciti a mettere insieme le testimonianze, quindi testimoni, poi attività investigativa che ci ha portato a identificare i giovani grazie anche all'impiante di videosorveglianza comunale.